Noi pensiamo che l'8 marzo non sia solo per un giorno, come dice il titolo della nostra iniziativa, ma debba essere un giorno per sensibilizzare a occuparsi di questi temi tutto l'anno. E lasciatemi far dire che non possiamo solo battere il colpo su temi quali legittimi, quali la declinazione dei sostantivi, degli aggettivi, ma soprattutto sui temi concreti, un asilo nido in più, maternità, politiche per la natalità, politiche di sostegno alle famiglie, politico di sostegno alle donne in difficoltà, sostegno ai centri antiviolenza. Questa iniziativa vuol dire sensibilizzare ad adottare misure concrete, a partire soprattutto dalla cultura, dalla scuola, perché la scuola educa e forma quelli che saranno gli adulti del domani. E quindi una duplice iniziativa sia in città sia nelle scuole per questo, per portare un cambiamento a partire da noi ragazzi.